Ciao ragazzi, sono Emanuele Propizio e volevo chiedervi di stare vicino al Nepal, che comunque è stata colpita da questo terremoto spaventoso. Io sto con l'Unicef, è il programma alimentare mondiale per aiutare i bambini e le famiglie colpite da questo terremoto. Ragazzi stiamo lì vicino e facciamo una piccola opera in benefica, mandiamo un sms o chiamiamo al 45596, ripeto 45596, per dare una mano a queste persone perché ne hanno bisogno e perché comunque essere colpiti da queste tragedie sono morte tante persone, queste persone hanno perso familiari e sono completamente senza nulla, senza cibo, senza farmaci, senza niente. Dai ragazzi facciamo questo sforzo tutti insieme e diamo la mano al Nepal. Un bacio.